benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui finalmente per provare le novità avete già detto dal titolo ma non inizieremo da loro perché sono quattro dolci quello proprio per ultimo di cui uno mi spaventa infatti inizierevo da quello che ti spaventa di più sono tutte le novità che sono uscite nell'ultimo periodo quindi non è niente di vecchio ma questa è una novità super recente baudi croissant cioccolato e lancia non ho mai visto una cosa del genere ho paura anche se baudi il cornetto era si si sa che si baudi ultimamente ha rifatto proprio tutti i cornetti dopo con la faccia della 50 per cento in più scioccate infatti dobbiamo prendere quello al mire e poi dall'altro sono usciti anche in super offerta proviamo tre volte l'umore si vede che Antonella ha fatto già tutto ha aperto tutto perché che dove fanno si sente l'arancia molto morbido ovviamente gli altri da te più pochi altrimenti i miei minimi ecco la sento molto questo ma la proviamo e poi diciamo la festa è buona pensavo molto peggio la cioccolata non è come la cioccolata inutile buono è sembra la festa ma ho paura è buonissimo ma poi super morbido pure il sapore non è non è chimico a volte ci sta quel gusto ti aspetto dio arancio wow wow buono wow scioccato non so se ne mangiare un altro però buono buono e se noi abbiamo provato un prodotto cioccolatoso io direi di provare un prodotto caramelloso troppi troppi cosi dolci abbiamo per lavorazione aperta tre marie questa è ancora uno frolla con caramello salato e cioccolato a che ora alle 9 di sera neanche facciamo i video a sali quelli la erano pure una buoni però immorbiditi wow pensavo più piccoli come li aspettavo così gravi enormi mi ricorda un po' la campagnola c'è il passato è frolla c'è tutto frolla un po' sempre mi senti il sale salato che si può il tè noi quando pensavo un tè non ci siamo mai a fare perché ne finiscono li piovescono molto di più ai morbidini poi non è pesante la famiglia di decima rosto buoni buoni e filigrati non troppo dolci la brolia è così delicata che non si attacca da nessuna parte invece hai un bagnole le cocce troppo pastose invece queste no ti rimane proprio questa bocca salata proprio del sale buoni sinceramente tra i morbidini e questi sinceramente tra i morbidini e questi questo non sono anche se ho sbaglio di Mermino carini no i tenderini i tenderini li trovate ancora da tre ore e trenta però io voglio capire una cosa tutti quanti a dire mi aspettavo la crema al latte ma perché ufficialmente la tender le ha presentati così perciò io non capisco questa cosa un po' diciamo come aspetto alla cioccolata dentro vedi questo ripieno così però vedi qua perché è bianco ma si capisce che c'è la cioccolata cacao cioè io voglio capire molti però vedi qua ci sta pesendo vedi il bianco quindi vedi latte e cacao allora si dovrebbe essere ripieno golosi frollini al latte e cacao si mo dipende loro latte e cacao mi intendo no latte e cacao sennò non scrivo latte e cacao ma sono i nonni gocci però che bofo fumo ci ne manca assuno tre volte no lo sai perché? sono rimasta stupita ma qua pure la frolla io pensavo che era la cioccolata no cioè io pensavo che questa era la cioccolata allora però posso lanciare una allora molte hanno detto che pure usandolo non si sente che è kinder invece posso dire che si sente che è kinder sì cioè non si può dire dov'è la cioccolata no cacao però sta scritto non sta scritto cioccolata no però guarda è meno non c'è aspetta perché tu hai preso questo con la bocca mi hai preso la bocca triste è triste dai cambialo è triste però posso dire una cosa la farcitura latte e cioccolato stanno gli occhi nella bocca eh ma è troppo poco per il biscotto che no no cioè qua dietro ma non qua dietro si è la cioccolata mamma vanno solo qua proviamoli togliamoci sto dente però si sente si sente che è kinder cioè l'odore si sente profumo di kinder bene però mi ricorda un po' anche gli abbracci si ma qua qua no non lo accetto qua la cioccolata qua devono giocare con la metta cioccolata al latte mamma mia ma è buona ma purta burra non lo accetto mi vuoi pensare da bocca di shakamook mi vuoi pensare da bocca di shakamook se ti lasciassi quello odore di ma poi il sapore della pasta frolla non mi piace aspetta ma io sto bene no no ma non ha proprio senso si voleva la cioccolata per spezzare questo biscotto troppo pesante veramente comunque nessuno è piaciuto ma il sapore pure della pasta frolla quando ti mangi dal lato degli occhi ripieni che ci sta un po' per far vedere un po' quella cioccolata poi il dopo come scende come scende di buttare sul commercio tutto perchè noi scemi compriamo qualsiasi cosa basta che sia una novità ma questi erano pure carini eh tipo quelli cini c'erano dietro la cioccolata ma questo qua lo sai quale se è buono i bimbi che si fissano il bimbo sta guando e dicevano ah è carina pazzica forma l'occhietto felice l'occhiale no c'erano 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 l'oppo ma della biscuit tutta la vita più a meno anche il kindercans piace no tipo però potevano fare quello là quando ufficero il duo là c'era sotto la frolla e c'era la tavoletta bianco ah quello si mamma mia quello che del duo quello no ma una meraviglia era ma questi voto 4 cioè 5 per l'ora e mezzo cioè bocciati l'illusione proprio abbiamo già provato le sorelline non potiamo le frolle che cosa era il latte mi ricordo adesso le frolle al cacao sono buonissime quelle già pure infatti sono venite subito allora a me le cose al cacao non piacciono molto quindi quindi infatti penso che passiamo a tutti i video ecco qua questo è il gusto classico tutta la vita sono meno croccanti no è poco cacao niente di che no 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 il sapore che avevano le altre no pure un po' di sale riva buono bello e più compatte no questo no no per questo i chenderini per questi no no comunque due e due video diviso due e due sono belli esteticamente ma non ballano ok raga è arrivato il momento di concludere questo video fateci sapere anche le vostre recensioni ma sappiamo che sono come le nostre e quindi nulla noi speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video ciao